Con Steve Della Casa, direttore artistico della terza edizione del festival I luoghi dell'anima a Sant'Arcangelo di Romagna dall'11 al 18 giugno 2022, ben trovato. Eccomi qua, buongiorno a tutti voi. Raccontiamo cos'è. È un festival ispirato alle parole, al pensiero e all'opera di Tonino Guerra, il grande scrittore nonché sceneggiatore di Fellini che diceva che ognuno di noi ha dei luoghi dell'anima e che il cinema e anche la letteratura devono sapervi raccontare. Questo era il suo pensiero, Andrea Guerra, suo figlio che è un grande musicista proprio per il cinema, ha raccolto quest'idea e ha fondato questo festival che è un festival soprattutto di incontri, di confronti, di scambi culturali più che di competizioni oppure di proiezioni una dopo l'altra. È un festival in cui tutto viene molto a misura d'uomo, ci sono vari ospiti importanti che vanno da Franco Nero a Pupi Avati, da Caterina Caselli a Mogol, da Riccardo Milani a Ricchi Tognatti, che vengono giorno dopo giorno a raccontare qual è il loro luogo dell'anima perché il cinema è il modo migliore per raccontare i posti dell'anima. Come sei arrivato a incrociare questo festival? Beh, Tonino Guerra lo conoscevo ma soprattutto sono molto amico di Andrea Guerra, appunto di suo figlio che è un musicista che ha fatto anche le musiche per un film che ho fatto recentemente, che è dato a Venezia quest'anno, c'è Django e Django, quindi noi ci conosciamo abbastanza bene e l'idea è naturalmente sua, però è stato fondamentale incontrarsi e avere uno scambio su questo terreno e abbiamo progettato insieme tutte e tre le edizioni del festival che sono già svolte e quella che ci svolgerà adesso. Come sarà articolato in questa settimana? Ci sono proiezioni, incontri sia a Rimini, sia a Santa Cagliaro di Romagna, sia anche a Pennabilli, tre paesi, insomma, tre città che chiamano al cinema e dicono qualcosa, insomma, per Fellini, per Tonino Guerra, per tanti altri motivi, per il teatro e così via. Ci sono degli incontri tipo Ligia tutte le sere, come dicevo ci sono delle proiezioni anche di lunghi fotometraggi e documentari, ma soprattutto c'è grande spazio e grande attenzione per gli incontri, le masterclass e conferenze di incontri. Come è stata la scelta? Quali sono stati i criteri per i film? Abbiamo scelto dei film che rappresentino proprio quello che dicevamo, cioè quanto il cinema possa essere veramente lui stesso un luogo dell'anima, cioè vedere certi film può in qualche modo essere un terreno quasi di crescita collettiva, un'occasione di scambio. Dobbiamo scelto con questo criterio, pensavamo a dei film che avessero questa componente al loro interno in maniera molto forte, faccio un esempio, non so, calci in culo piuttosto che altri film recenti usciti e in questo modo cerchiamo anche di dare una mano a che il cinema ritrovi di importanza chi ha avuto, che la pandemia e tutto quello che è successo in questi ultimi due anni, come sappiamo, ha un po' messo in discussione. Nel complesso quante sono le opere e saranno accompagnate tutte da autori e autrici? Sì, sì, si prevederà l'incontro con qualcuno o lo regista o lo sceneggiatore, poi ci saranno appunto documentari, ce ne sono otto lungometraggi, otto documentari, un corso di cortometraggi e alcune proiezioni speciali che accompagnano alcune masterclass. Poi metteremo la casa delle finestre che ridono in maniera da fare anche un omaggio a Lino Capolicchio che sono mancati da poco, che sono due attori con cui ho lavorato molto e poi è un film girato tutto dalle parti, insomma, della Romagna, quindi la fa vedere anche da un punto di vista inedito e insolito. Come sarà nell'arco della giornata il festival? Come si svilupperà? Ci saranno degli incontri a partire dalle sei, presentazioni di libri e così via, fotometraggi e poi la sera ci sono due proiezioni, una proiezione speciale e un film di lungometraggio oppure un documentario. E' articolato in questo modo, cioè diciamo che i momenti di socialità sono quando cala il sole e la gente ha anche più voglia di stare insieme e di divertirsi, quindi conti usciamo anche da due anni piuttosto difficile, tutto quello che può stare insieme credo che sia un benvenuto. Spazi all'aperto e al chiuso? Spazi all'aperto e al chiuso sono molto lieto di annunciare che c'è anche il famoso Cinema Fulgo che è stato ristrutto dalla regione Emilia-Romagna e che, come sappiamo, è un luogo feliniano per eccellenza. Terza edizione del festival I luoghi dell'anima a Sant'Arcaggelo di Romagna e Rimini dall'11 al 18 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Steve Della Casa. Grazie a voi, arrivederci.